benvenuti benvenuti in questo video ora per questo video vedrete le cinque scuole più belle al mondo questo è un liceo in prancia questa scuola si trova in prancia e è la più bella al mondo perché i ragazzi non gli danno lezioni per casa e poi perché gli fanno fare cosa vogliono e poi sono dei vagabondi invece questa scuola è la più severa al mondo che si trova in messico purtroppo lì fanno lavorare peggio d'italia quindi non lamentiamoci della scuola perché la più tossica del mondo non è l'italia ma il messico e questa invece si trova in giappone è la scuola più rilassante al mondo che sicuramente tu vorresti avere perché lì non ti fanno portare libri quaderni ti fanno lavorare col tablette e basta tutti i soldi le verifiche guarda ti fanno fare le cose col tablette e telefono eh e se non la giga sei sei sul cazzo sei sei nei guai perché ti serve il tablette per lavorare non ti serve nient'altro che un tablette e niente avete visto queste sono le scuole più belle al mondo ciao